Nel video di oggi di Beautiful, la verità su Thomas diventa un campo di battaglia tra Finn, Steffi e Hop, chi emergerà con la verità. Scopri come si svolge questa storia di tensione e tradimento. Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che Finn non è riuscito a convincere Steffi che Thomas fosse coinvolto nella morte di Emma, la fidanzata di Xander. Steffi, che ha una grande fiducia in Thomas, non crede che lui possa aver compiuto un atto così terribile. Sospetta piuttosto che Xander abbia orchestrato tutto per far odiare Thomas e allo stesso tempo dividere la sua relazione con gli altri. Finn, tuttavia, mantiene la sua opinione. Indipendentemente dalle manipolazioni di Xander, lui vede Thomas come una minaccia reale per le persone intorno a lui. Finn continua a cercare di avvertire gli altri, sperando che Hop possa essere più ricettiva rispetto a Steffi. Dato che Hop non è imparentata con Thomas, non lo difenderà o favorirà. Quando Hop sente per la prima volta la storia da Finn, ci crede subito, contrariamente a Steffi. Hop, consapevole che Xander, fidanzato di Emma, non avrebbe mai usato la morte di Emma per incastrare Thomas, riesce comunque a mantenere una posizione critica. Nonostante provi sentimenti per Thomas, Hop non è cieca per questo e rimane molto attenta nel valutare se le persone intorno a lei siano degne di fiducia. Ha sempre avuto il sospetto che Thomas avrebbe potuto tornare ad avere comportamenti malvagi qualora si fosse trovato nell'impossibilità di raggiungere i suoi obiettivi, motivo per cui rimane sempre cauta nei suoi confronti. Evita di ferire Thomas perché questo potrebbe influenzare il suo umore e, una volta arrabbiato, è difficile controllarlo. Tuttavia, è fondamentale che Thomas risponda delle sue azioni. Ora che Hop conosce il vero volto di Thomas, non può più rimanere al suo fianco. Se Hop dovesse lasciare Thomas, ciò potrebbe farlo perdere il controllo e causare ulteriori danni. Di conseguenza, Finn, Xander e Hop decidono di collaborare per trovare prove che Thomas abbia causato l'incidente di Emma. In questo modo, Thomas potrà essere arrestato dalla polizia, liberando Hop dalla necessità di averlo al suo fianco. Questa si rivela la strategia più ragionevole per Hop per allontanarsi da Thomas senza temere che lui possa continuare a importunarla, sfruttando la fiducia che Thomas ripone in lei, o riesce a raccogliere prove decisive che poi consegna a Finn e Xander per smascherare Thomas.